Mentre procedono le consultazioni per la formazione del nuovo governo, il mondo della scuola si chiede che cosa succederà a Viale Trastevere. Resterà Lucia Zolina o arriverà un altro ministro? In tal caso chi potrebbe essere? Difficile, anzi quasi impossibile fare previsioni attendibili, anche perché in questo momento non sappiamo neppure a chi verrà attribuito il compito di mettere in piedi il nuovo esecutivo. Diciamo che se il presidente incaricato sarà Giuseppe Conte, come peraltro stanno chiedendo tutti gli alleati, e cioè PD, 5 Stelle e LEU, ad eccezione di Italia Viva, Azzolina avrebbe buone possibilità di essere confermata. Ma Conte dovrà fare i conti con Italia Viva di Matteo Renzi, che ha già fatto sapere che Azzolina dovrà restare fuori. E siccome allo stato attuale delle cose in Senato il voto di Italia Viva è assolutamente decisivo, bisogna aspettare ancora almeno un paio di giorni per capire come potrebbe evolvere la situazione. Va detto che se anche Azzolina dovesse lasciare il posto a qualcun altro o altra, non dovrebbe cambiare molto, perché quasi tutte le azioni previste sono ormai da anni considerate prioritarie da gran parte delle forze politiche. Nel recente atto di indirizzo della Ministra, per esempio, si parla di contrasto alla dispersione scolastica, di promozione dell'inclusione, ma anche di sviluppo dell'indirizzo scolastica e di innovazione delle metodologie didattiche, oltre che di promozione dell'autonomia scolastica e di potenziamento del sistema integrato dalla nascita ai sei anni. Insomma, tutti i temi su cui è difficile che ci sia disaccordo. Ma ci sono un paio di questioni sulle quali potrebbero esserci modifiche più o meno significative. Nell'atto di indirizzo, per esempio, si parla di valorizzare il cosiddetto middle management, proposta che certamente non entusiasma le organizzazioni sindacali, che tradizionalmente preferiscono legare la progressione stipendiale all'anzianità piuttosto che allo sviluppo professionale. Il secondo obiettivo riguarda la valorizzazione e lo sviluppo del sistema nazionale di valutazione, che anche in questo caso potrebbe essere abbandonato da un ministro che voglia presentarsi come dialogante con i sindacati. Si ricorderà che a suo tempo le decisioni di Marco Bussetti di ridimensionare il ruolo degli invalsi e delle rilevazioni periodiche erano state particolarmente apprezzate dalle organizzazioni sindacali. Al contrario, se il nuovo ministro fosse più vicino a posizioni centriste, potrebbe trovare maggior spazio alla valorizzazione del sistema paritario, mentre con un ministro vicino a posizioni tecnocratiche o confindustriali potrebbero riprendere slancio le iniziative in materia di alternanza scuola-lavoro. Il tema è caldo perché appunto si sta lavorando per formare il nuovo governo, quindi continueremo a tenervi informati. Seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre impressioni, le vostre proposte, i vostri documenti e noi ne daremo conto come sempre.